Benvenuti in un nuovo video e oggi parleremo di un libro, secondo me è un libro molto interessante, ovvero Mangasia, la guida definitiva al fumetto asiatico. Un saggio scritto da Paul Gravett dove si parla appunto del fumetto in tante nazioni dell'Asia e se ne affronta varie tematiche all'interno del libro. Ora tra poco si parlerà appunto del libro. Prima di questo volevo parlarvi del fatto che tra le altre cose su questo libro qui è stato creato anche una mostra, una mostra itinerante che tra le altre cose ha avuto la sua prima, diciamo, esposizione in Italia, a Roma, nel 2017 se non sbaglio, a cavallo tra il 2017 e il 2018. Purtroppo non sono potuto andarla a vedere, quindi non so com'è via la mostra, però visto com'è il libro io mi aspetto anche prima di cosa con la mostra e spero che magari, visto che comunque è una mostra itinerante, prima o poi possa anche ripresentarsi in Italia, visto che comunque è partita da qui. Oltre a questo, per parlare appunto di questo libro oggi proveremo a utilizzare un'incodiatura un po' diversa e quindi vi lascio appunto a me stesso di un altro luogo. Allora, come vi ho detto nell'introduzione, oggi parliamo di Mangasia per l'appunto, la guida definitiva al fumetto asiatico, un saggio scritto da Paul Gravett ed edito dal Sole24ore, non so se riuscite a vedere, dove appunto si parla del fumetto in Asia in generale, quindi non solo nel Giappone naturalmente, dove uno si aspetta di andare a trovare il fumetto, ma in tutta l'Asia. Questa è la sovracopertina del volume, che vi era tolta subito, per praticità diciamo, e questo diciamo è il volume senza sovracopertina, che secondo me è molto molto brutto purtroppo, ma così è. Quindi, andando avanti, all'interno di questo volume noi troveremo per l'appunto una serie di immagini e di testi che vengono a rappresentare e a spiegarci come si è sviluppato il fumetto in Asia, in generale per l'appunto, e poi tutta un'altra serie di cose appunto legate al fumetto asiatico. Secondo me, già ora abbiamo una delle parti molto più interessanti del libro in generale, ovvero questa mappa dell'Asia, che ci mostra praticamente i luoghi da dove vengono tratti le immagini che ci vengono mostrate all'interno di questo volume, e secondo me, non prendendo in considerazione i nomi di nazioni più conosciute, naturalmente uno si può immaginare che esistono fumetti in Giappone, che esistono fumetti in Cina, che esistono fumetti in Corea del Nord e del Sud, perché comunque si sa che esistono, sono anche abbastanza conosciuti alcuni in tutto il mondo. È molto interessante quando si inizia a pensare che ci sono anche fumetti in Bangladesh, in Bhutan, in Cambogia, Hong Kong, in India, in Indonesia, in Malesia, in Mongolia, in Singapore, in Taiwan, in Thailandia, in Tibet, in Vietnam. C'è tutta una serie di nazioni che naturalmente, secondo me, la maggior parte delle persone non ti viene in mente mai neanche di pensarci che possono esserci dei fumetti originali di quelle parti del mondo. Secondo me è molto interessante invece proprio questo aspetto qui, nel senso, lo sapevamo che c'erano dei fumetti in Bangladesh? No, però questo albo qui ti fa vedere alcune immagini, ti dà un piccolo escurso della storia del fumetto in Bangladesh, cosa che secondo me è molto interessante. Ecco, questa è un'altra cosa molto interessante del volume, secondo me, ovvero le immagini. Essendo comunque un saggio, il libro comunque ha delle parti, diciamo, scritte che sono lì apposta per spiegarti alcune cose. Però secondo me la parte forse più interessante, anche a un livello, diciamo, immediato, è la presenza di immagini, tantissime immagini davvero, che vengono dalle più disparate nazioni appunto dell'Asia e che secondo me sono molto interessanti per far capire un po' com'è che il fumetto si è sviluppato in quelle nazioni. Quindi secondo me già questa è una parte interessantissima. Poi passiamo effettivamente a quello che è il volume e vediamo che il volume è diviso in varie categorie, non so se riuscite a leggervela vicino un goccino, ovvero, così dovresti leggerti, mappare, mangasia, favole e folclore, ricreare e rivisitare il passato, storie e narratori, censura e sensibilità, manga multidiali. Queste sono, diciamo, le grandi categorie in cui è diviso il manga e all'interno di ognuna di esse verrà affrontato il fumetto in tutte le nazioni elencate, o comunque in una maggior parte delle nazioni elencate all'inizio del libro. E niente, secondo me, ora vi sfoglio un pochino e vi faccio vedere quelle che sono naturalmente le sezioni più grandi. A questo che è molto simpatico, per esempio, breve cronologia del manga e fa vedere quali sono stati i manga più importanti nelle varie epoche storiche. che, per esempio, nel 1799 Santo Kyodan usa per la prima volta il termine manga nel libro Shiki no Yukikai. Ok, quindi questa è la nascita proprio del termine manga e siamo arrivati nel 2012, questo è, mi sa, l'ultimo volume che è stato preso perché comunque ci sono voluti degli anni per la stasura del libro e quindi non sono stati aggiunti gli ultimi volumi dal 2012 a oggi, mi sa. e abbiamo One Punch Man per il 2012. Naturalmente non sono elencati tutti gli anni ma sono stati elencati probabilmente i volumi più importanti che l'attore ha trovato appunto di nota per il pubblico. Quindi secondo me questo è molto interessante. Poi vediamo, ecco questo qui è un'altra cosa, tutti i tipi di manga. Quindi ci sono degli esempi di vari tipi di manga comunque questo vi faccio leggere a voi se lo prenderete e si passa alla prima sezione appunto mappare il manga, appare Mangasia e che parla appunto della storia del manga nelle nazioni elencate all'inizio. quindi Cina come potete vedere queste sono illustrazioni di fumetti cinesi e giapponesi e quindi poi andando avanti così. Non voglio farvi vedere tutto perché naturalmente sarebbe un po' troppo spoiler ma come potete vedere certo c'è una buona parte di scritto diciamo all'interno di questi volumi qui ma in realtà come potete vedere ci sono anche intervellati da molti molti immagini quindi in realtà uno non deve preoccuparsi troppo che il volume possa essere molto pesante quindi anche per una persona che non è molto interessata dal punto di vista saggistico a questa cosa qui anche prendersi solo per le immagini secondo me varrebbe la spesa. La seconda parte è Favola e Folclore quindi si parla della rivisitazione dei grandi classici appunto delle varie nazioni elencate che sono stati poi successivamente ripresi, rivisitati nella forma fumettistica quindi si parla di i grandi classici dell'elettoratura cinese e di tutte le nazioni appunto elencate all'inizio secondo me un'altra cosa molto interessante di questo volume qui è il fatto che comunque ti fa venire voglia di recuperare alcuni di questi volumi qui e perché ci sono veramente delle illustrazioni secondo me molto belle in alcuni dei dei volumi che sono presentati appunto all'interno di questo saggio qui per esempio questi qui sono secondo me molto belle come illustrazioni mi verrebbe voglia appunto di recuperarle e volendo io potrei anche cercare appunto qui in fondo c'è la didascalia che ci spiega vedete male forse che ci spiega appunto cosa sono queste illustrazioni qui e volendo potrei ricercarle e vedere se ci esiste una copia magari inglese o qualcosa del genere andando avanti poi naturalmente ora non vi faccio vedere tutto come vedete immagini su immagini su immagini accompagnate da descrizioni naturalmente non c'è solo immagini facciamo così per evitare la sezione su ricreare e rivisitare il passato ovvero come è stata trattata la storia moderna o comunque anche la storia non moderna tramite il fumetto e qui ci parla appunto di come magari durante la rivoluzione comunista in Cina venne utilizzato il fumetto per fare propaganda come usarono i giapponesi il fumetto per farsi propaganda nelle nazioni che diciamo conquistavano durante il periodo imperialista del Giappone dello scorso secolo e tutta una serie di cose secondo me molto interessanti da da vedere da affrontare perché comunque secondo me questa è la parte proprio più come si può dire tangente di come può essere utilizzato il fumetto per sviare l'opinione pubblica secondo me questo è molto interessante andando avanti poi si passa naturalmente tramite tantissime immagini e si arriva a storie e narratori qui si parla un po' in realtà della figura del mangaka in Giappone naturalmente poi anche in tutte le altre nazioni quindi di come queste figure devono affrontare il loro lavoro come devono in poche parole avere relazioni con gli editor con chi stampa fumetti tutta una serie di cose del genere quindi secondo me questa è una parte molto più tecnica secondo me da una parte molto interessante anche questa perché comunque fa vedere magari che so per scrivere per Shonen Jump la rivista più famosa giapponese di manga devi sfornare una quantità di tavole che è veramente assurda e c'è tutto diciamo anche un modo per riuscire poi a essere pubblicati su Shonen Jump che è molto difficile e poi questo viene anche affrontato da altre parti ecco al quinto capitolo c'è la censura e sensibilità che secondo me questa è una cosa molto interessante e quindi naturalmente qui si parla di come il fumetto viene visto dal pubblico grande diciamo dalla massa e poi anche dai governi quindi sicuramente in alcune parti del mondo tipo la Cina per esempio alcuni fumetti non sono del tutto accettati e quindi magari prima di poter essere stampati in Cina devono essere sottoposti a un tipo di censura e questo è uguale magari in Corea del Nord e in altre parti del mondo e non solo magari per esempio qui si parla anche di come diciamo la massa in Giappone per esempio la massa nel senso il pubblico più esteso in Giappone ha visto alcuni generi del manga e di come ci siano ancora oggi delle proteste molto pesanti per alcuni generi di manga che vengono visti appunto negativamente dal pubblico più grande e quindi secondo me questa è una parte molto interessante si parla proprio anche di alcune cose che magari uno non ci pensa ma che effettivamente ci sono quindi appunto la cosa delle proteste in Giappone stesso su alcuni tipi di manga io non ci avrei mai pensato per esempio che ancora oggi ci fossero appunto dei movimenti del genere eppure ci sono e ora ci si avvia verso l'ultimo capitolo quindi facciamo la scarellata di immagini così al volo e si arriva a manga multimediali secondo me questo capitolo è molto interessante e molto moderno nella sua concezione perché questo qui è un capitolo che parla proprio di come il manga e comunque il fumetto nelle nazioni asiatiche è stato poi interpretato da altre diciamo realtà quindi non solo quella fumettistica cartacea e si parla per esempio del fatto che esiste il fumetto online per esempio in Corea non so se lo avete presente esiste un grandissimo movimento di fumetti del tutto nati per l'online che quindi vengono anche costruiti proprio per diciamo essere visti su un telefono quindi anche proprio le impostazioni delle pagine è diversa rispetto a quello che uno si può aspettare vediamo se riesco a trovare un esempio e così uguale non solo però per il manga online si parla anche poi magari dell'adattamento anime o cose del genere come vedete qui l'impostazione delle vignette è molto diversa rispetto a quello che uno solitamente si aspetta da un fumetto perché questo qui è un fumetto nato e pensato per essere visualizzato appunto sul telefono ora non vi posso far vedere naturalmente lo schermo del telefono perché lo sto usando per registrare ma anche io ho installato appunto webton su telefono e effettivamente tutti i fumetti sono sviluppati in questo modo qui addirittura su webton c'è la possibilità di aggiungere magari una musica di sottofondo quindi mentre uno si ascolta si guarda si legge il fumetto può ascoltarsi una musica è una cosa molto interessante appunto il modo in cui viene visto il fumetto in maniera diversa a seconda del media appunto che si sta utilizzando per leggere questo fumetto come vedete qui per esempio immagini che non sono rinchiusi in vignette cosa che poi esiste anche nel fumetto cartaceo ma in questo modo qui rende molto oppure pensieri espressi al di fuori di balun forse del genere secondo me è molto interessante e direi che qui stiamo praticamente alla fine qui ci sono naturalmente referenze fotografiche quindi tutte le immagini che sono state presentate all'interno del libro poi indici analitico naturalmente essendo un saggio ci sono tutte le citazioni e tutte diciamo le citazioni vengono poi menzionate alla fine del volume e siamo arrivati alla fine ora io direi che vi ho fatto vedere abbastanza bene com'è questo volume qui per le conclusioni diciamo passiamo di nuovo all'inquadratura normale ed eccoci ritornati dal parlare di Mangasia e direi che siamo qui pronti a tirare le somme secondo me di questo libro qui allora sicuramente io immagino che guardando la parte prima diciamo la parte in cui vi faccio vedere il libro avete visto che comunque dal punto di vista qualitativo questo libro non ha nulla da invidiare a tanti altri ha dei fogli molto spessi una carta molto spessa ma naturalmente il tramite più giusto per poter diciamo supportare così tante stampe al suo interno quindi così tante stampe soprattutto a colori quindi una carta così spessa era d'obbligo non è una carta del tutto patinata ma comunque l'immagine si riesce a vedere benissimo e quindi secondo me dal punto di vista di stampa comunque è abbastanza buono anche dal punto di vista di legatura io non ho nulla da dire per la mia copia perlomeno io ho letto tutto il libro l'ho aperto l'ho sfogliato non ho avuto problemi e non si è staccato nulla non ci sono problemi diciamo di pagine volanti e cose del genere l'unica cosa che sinceramente mi verrebbe da criticare a tutto il libro diciamo dal punto di vista pratico è il fatto che c'è appunto questa cover veramente orripilante cosa che non ho capito come mai sta fatta ma si scoprirà la cosa sinceramente che un po' può allontanare tante persone da comprare il volume è il prezzo infatti io ho qui una pagina aperta di Amazon e su Amazon questo volume ma con la copertina rigida questa qui è la copertina flessibile vale 33 euro un prezzo sinceramente abbastanza alto certo si capisce il perché del prezzo per il fatto che comunque ci sono tantissime immagini come dicevo e quindi anche dal punto di vista proprio della stampa deve essere stata comunque una spesa un pochino più grande ma 33 euro sono tanti io comunque lascerò in descrizione il mio il link diciamo di Amazon per poter recuperare il volume però vi dico nonostante una cosa che a me naturalmente non mi conviene del fatto che io ho trovato questo volume al mercatino dell'usato diciamo a 15 euro se non mi sbaglio 10-15 euro e addirittura l'anno scorso ai comics ho visto uno stand che vendeva questo volume più copie di questo volume a 8 euro l'uno ancora in celafonate quindi sicuramente io vi direi magari prima diciamo di spendere per prenderlo su Amazon di cercarlo ma li usate da qualche parte però naturalmente se volete comunque essere possessori di questo libro anche a 33 euro sinceramente è un prezzo che sarà disposto a pagare come dicevo secondo me è molto interessante da tenere nella propria libreria anche la parte comunque scritta è molto importante molto bella però io immagino che comunque tante persone possono essere interessate anche solo la parte grafica perché comunque avere una diciamo una prova grafica di tutti questi di tutti questi fumetti in tutte le parti del mondo secondo me è una cosa molto interessante quindi sicuramente anche da quel punto di vista lì è molto bello avere questo libro qui e oltre a questo secondo me l'esperimento con registrare il libro d'azzo secondo me può essere venuto abbastanza bene e può essere molto carino soprattutto per il fatto che almeno si può vedere effettivamente il libro in maniera un po' migliore quindi probabilmente se dovevo fare altre recensioni di libri o comunque sguardi i primi sguardi ad alcuni libri potrei farli così soprattutto per fumetti e cose del genere che naturalmente vedere l'immagine è anche importante per per riuscire a decidere se comprare o no un fumetto perché io perlomeno dal mio punto di vista un fumetto è naturalmente da avere una bella storia un bel contenuto dal punto di vista un po' scritto ma anche un disegno che mi piace perché naturalmente altrimenti non prendo un fumetto e mi vado a prendere un libro e niente quindi spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un mi piace una condivisione un commento nella parte sotto dei commenti se per caso appunto avete qualche appunto volete fare qualche domanda qualcosa del genere e ci si vede martedì con il prossimo video della serie dello studio Ghibli buona giornata grazie a tutti grazie a tutti